Siamo presso l'autorità portuale di Taranto, c'è la presenza di Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Due realtà, quella di Taranto e la realtà del Friuli Venezia Giulia, che hanno parecchi punti in comune dal punto di vista dei porti e quindi la portualità come strumento indispensabile per lo sviluppo economico del territorio. Allora fa subito gli onori di casa l'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice coordinatore regionale pugliese della Lega. Sì, è chiaro che noi ringraziamo il presidente Fedriga per aver accolto il nostro invito. A dire il vero, ha sempre guardato con grande attenzione al nostro territorio, a Taranto in particolare, ma all'intera provincia. Per cui ha accettato di buon grado il nostro invito e colgo l'occasione di ringraziare anche il presidente Sergio Prete per aver accettato questo incontro e questo confronto con il nostro presidente Fedriga. Certo che lì nel porto, voi sapete bene, ne discutiamo da anni, abbiamo fatto interpellanze parlamentari, abbiamo parlato di tutto e di più. Diceva giustamente l'onorevole Altieri che è una risorsa che va valorizzata e penso che sia il volano vero per questo territorio. Ecco perché io ringrazio ancora una volta Massimiliano per stare qui in mezzo a noi con Taranto e con i Tarantini. Ecco l'ospite Massimiliano Fedriga, come detto, presidente del Friuli Venezia. Giulia, come ottimizzare davvero queste, sfruttare davvero queste potenzialità? Ha visto la realtà di Taranto, tante potenzialità che però devono essere, come dire, tradotte nella realtà dei fatti. Non c'è dubbio che in primo luogo per sfruttare le potenzialità di un polo logistico importante come il porto di Taranto, prima di tutto è necessario investire sulle infrastrutture. Noi dobbiamo permettere che ci possa essere l'intermodalità, ci possa essere il collegamento, come dicevo, il porto di Taranto è fondamentale, ma pensiamo al collegamento via ferro che può andare dalla Puglia fino al Friuli Venezia Giulia e arrivare quindi a tutto quel mercato del centro-destro Europa, che è un mercato assolutamente appetibile che oltretutto collega anche via ferro col Fariste. Basti pensare ai collegamenti tra Germania, Cina ed altri paesi asiatici. Su questo io penso che noi potremo sfruttare una grande alleanza mettendo insieme ovviamente peculiarità specifiche del porto, come il porto di Taranto ovviamente sullo Ionio e di Trieste sul mare Adriatico, ma tutta la dorsale Adriatica via ferro è fondamentale per aiutare ovviamente lo sviluppo delle nostre due regioni. Penso che l'alleanza tra territori sarà il futuro dell'Italia e del nostro paese. Se noi riusciamo a creare queste alleanze, lavorare insieme, governare il paese partendo dai territori, riusciremo a dare un'opportunità di crescita e devo dire, chiudo veramente, che Taranto ha grandissime potenzialità dal porto, ma credo che anche tutta la parte turistica debba essere valorizzata perché è un territorio magnifico con potenzialità enormi che può essere attrattivo a livello globale. Sfruttiamo queste occasioni. L'onorevole Nuccio Altieri, candidato al Consiglio regionale, in caso di vittoria di Fitto sarà il vicepresidente della Regione Puglia. Ecco in che modo la Regione Puglia, in caso di vittoria del centro-destra, intenderà davvero partire dal porto di Taranto come volano per lo sviluppo? Il porto di Taranto ha una rilevanza nazionale, oltre che regionale, non è solo a Taranto, è un porto che avrebbe grandi capacità sia di produrre pil che occupazione, ad oggi è utilizzato molto poco, grazie alla presenza di Massimiliano Fedriga qui oggi, che è il secondo governatore più apprezzato d'Italia, che ha fatto bene al porto di Trieste, il porto di Trieste che funziona significa che costano di più anche gli immobili sul porto di Trieste, quindi è qualcosa che dobbiamo mettere subito in modo, prendendo i modelli che funzionano come quello del Friuli Venezia Giulia e portandolo qui in Puglia, in modo tale da poter finalmente liberare la Regione dalle gambe clientelari, ma soprattutto far liberare subito le energie produttive che per troppo tempo sono rimaste ferme. Qui non ci manca nulla, ci manca solo di girare l'interruttore sulla posizione di acceso e tutto deve partire, perché questo porto può essere un grande porto commerciale nel Mediterraneo, ma soprattutto anche un grande porto turistico nel Mar Piccolo per accogliere i grandi yacht che d'inverno sono ai Caraibi e che nel Mediterraneo non hanno uno spazio così centrale e così grande. Io vedo in questo il futuro di Taranto e non sulle chiacchiere che sono state sprecate sugli acquapark negli anni passati. Senatore Marti, l'importanza di comparare esperienze diverse per arrivare ad un momento di sintesi prendendo spunto dall'esperienza, dalle attività del Friuli Venezia Giulia di Trieste per esempio? Sì, non è solo comparare un modello di governo regionale, il Presidente Federica è stato uno dei pionieri a credere nella Lega in Puglia, è colui che ha immaginato realmente che si potesse in questa terra fare qualcosa di importante, ci ha creduto molti anni fa quando veramente pochissime persone ci credevano investendo negli uomini e qui oggi in doppia formula in quella politica del partito e nel modello reale di buona amministrazione, come ha detto Giannuccio, è il secondo governatore più apprezzato d'Italia ma sono solo due anni e mezzo che governa una regione importantissima oggi quest'altro simbolo al porto di Taranto, emulare un buon governo, delle buone prassi, dei buoni usi che la Lega può, fra tre giorni, fra quattro giorni possiamo mettere in pratica quel modello per questa gente è da 15 anni che la regione è governata dal centro-sinistra e ora di cambiare la sua presenza qui è sicuramente di buon auspicio per tutti quanti noi